Siamo con Vastola, mister Alfaio, ciao. Buonasera a tutti. Colombo invece è il mister di settimo calcio, ciao anche a te. Ciao a tutti. Voi siete la squadra che è subentrata a torneo già iniziato, avete giocato tre partite solamente, quindi avete raccolto l'elite in altra squadra, insomma qual è l'impatto con il torneo, come è stato? Ma ci siamo resi conto già da subito che comunque il livello è alto, il livello abbiamo fatto la prima partita contro l'ultima in classifica, siamo riusciti a fare dieci gol non subendo neanche uno. L'umore si è alzato moltissimo, però dopo quando abbiamo fatto la seconda contro uno fortissimo e il Puma ci hanno fatto rimettere i piedi per terra, ma con ciò non ci siamo per niente demoralizzati, anzi c'è stato stimolo in più per venire qui e continuare questo progetto che è appena iniziato proprio. Abbiamo fatto un torneo, un Coppa di Natale, siamo arrivati i terzi, siamo quindi nuovi sullo Sportland, però i ragazzi hanno sempre avuto comunque confidenza con il pallone. Ci piace lo spirito dello Sportland, ci piace, è per questo che siamo venuti qua e abbiamo vannorato altri tornei. Bene, grazie, questo vi fa l'ore. Voi invece siete con 30 punti, agganciate al treno delle seconde, insomma voi l'autosalone testore a punteggio pieno, ma voi siete lì. Sì, la squadra ha ultimamente un po' di alti e bassi, però comunque i giocatori sono determinati, vogliono portare a casa, comunque avvicinarsi sempre di più alla testa della classifica, manteniamo anche la seconda posizione e stasera comunque sarà dura, quindi vediamo di darci da fare anche stasera. Allora datevi la mano, signor Di Fair Play, buona partita! Grazie, vi dico il migliore! Ragazzi fermi! Oh, su è raga, su è! Punta, 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 punta Tony! Sìì! Bravo Tony! Dai ragazzi! Bravo Tony! Questa sera perdiamo! Dai ragazzi, dai dai! Dai, bravissime! Dai, dai, dai! Ma chiedi la mano, schiena la mano! Oh, no! Non tolì, no! Stringi, stringi! No! No! Cazzo! Dai ragazzi, dai! Oh, mi so... Oh, mi so... Oh, mi so... Oh... Stringi! 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 Terminato il primo tempo con il vantaggio 3 a 0 di settimo su Real Fire con doppietta di Carulli e gol di Arcerito. Ehi! 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 Vai Paolo! Grande Angelo! Grande! Grande! Vai! Dai che ci sei per il secondo! Vai libero! Dai Davide, subito! Sì Luca! Grande forse! Vai Luca! Sì Luca! Sì Luca! Vai metà! Vai! Oh! Dai! Arbitro cambio! Vai! Luca! Centro scolo! Calcio Davide! 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 Per il settimo calcio contro Real Fire! Per il settimo calcio doppietta di Carulli e di Arcerito! Per quanto riguarda invece Real Fire! Doppietta di Nicastro! Davide! Davide! Davide!